Un'altra caratteristica è le cotture lunghe. Cosa possono dare in più ai piatti? Le cotture lunghe nascono per ottimizzare il prodotto in quanto si perde molto meno del peso della carne e in più se si ha la conoscenza della temperatura di cottura, di raggiungimento di cottura del prodotto, che sia carne o sia pesce, si utilizza questa cottura perché non è aggressiva sul prodotto e cuocendo per esempio un filetto di manzo, noi sappiamo che lo vogliamo per esempio a 55 gradi al cuore, cuociamo a 55 gradi nel forno fin quando non arriva al cuore a 55 gradi, quindi abbiamo questo pezzo di carne, taglio che sia, tutto quanto a 55 gradi e poi si termina in piastra, in padella come lo si desidera. Si può utilizzare sia per carne che per pesce. L'importante è conoscere le temperature di cottura perché la stessa temperatura su una carne bianca che può essere un pollame non è adeguato perché carne cruda di pollame ha i suoi rischi di salmonella o cose varie. Quindi a ogni carne, a ogni cosa c'è la sua temperatura e bisogna conoscerla. Un'altra domanda, un'attenzione particolare anche alla presentazione dei piatti, abbiamo notato questa sera. Quanto è importante anche l'approccio visivo con il piatto? Secondo me molto importante, io ne vengo non dalla scuola alberghiera ma da un istituto d'arte quindi è un vezzo mio personale quello di magari dare un tocco un po' più elegante, un po' più artistico se vogliamo chiamarlo così, del piatto. Però fondamentalmente prima di portare alla bocca il cibo lo si vede con gli occhi, quindi molti piatti seppur eccellenti al gusto magari alla vista non invogliano poi dopo averli assaggiati si si rende conto che sono buonissimi però magari dare anche così un tocco di eleganza al piatto secondo me aiuta tanto.